Se sei un utente Postmaster e vuoi modificare la password di una o più caselle di posta del dominio, accedi all'indirizzo webmail.aruba.it. Seleziona la scheda Gestisci caselle dominio. Nei rispettivi campi, inserisci la casella Postmaster-nomedominio.estensione. La password, seleziona la versione Smart e accedi. Una volta effettuato l'accesso al pannello, visualizzerai la lista delle caselle di posta già create. Seleziona la casella di posta di cui desideri modificare la password. Seleziona la scheda Gestione password e negli appositi campi inserisci la nuova password, rispettando i requisiti richiesti. Durante l'inserimento della nuova password, il sistema verifica in automatico se i requisiti sono rispettati, spuntandoli in verde. Clicca sull'icona dell'occhio per vedere in chiaro la password. Confirma la password nel campo sottostante e infine salva le modifiche.